Oggi ragazzi sono nervoso! Ragazzi sono nervosissimo, oggi sono nervosissimo. Comunque l'episodio di oggi è molto semplice, molto veloce. Infatti parliamo di to sit this one out. To sit this one out. Che vuol dire non prendere parte a qualcosa, non partecipare a qualcosa. A seconda degli esempi varia un po' il significato. Comunque più o meno non partecipare a qualcosa. Would you like to dance? No thanks, I'll sit this one out. Ti va di ballare? No grazie, questa volta non ballo. I'll sit this one out. Attenzione, sit si vuol dire sedersi perché deriva dallo sport quando uno non giocava una partita quindi si sedeva. Però non è che se uno ti chiede di ballare e gli dici I'll sit this one out vuol dire che ti devi sedere. Capito? O devi essere seduto. I'll sit this one out vuol dire che non partecipi. Cioè quel ballo lì, in quel momento lì non vuoi insomma. Oppure dovete andare in un posto, c'è un pulmino da nove persone ma siete in dieci e tu dici Don't worry guys, I'll sit this one out. Cioè questa volta non partecipo, andate voi. Don't worry guys, I'll sit this one out. Eh? Non ve l'aspettavate? Ammazzavo, mi ammazzo. Basta, fine. Finito il video, finito. Tutto qua. Ciao. 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 Grazie a tutti.